salve cari amici bentornati sul canale e benvenuti a questo nuovo video oggi siamo di unboxing ho acquistato un orologio su vinted dove io sono abbastanza presente un orologio che era già un po che mi interessava avere in collezione quindi non l'ho acquistato per rivenderlo però è un orologio al quarzo però un quarzo iconico sempre stato al quarzo non ha mai avuto una declinazione automatica e forse anche un peccato forse sì forse no e questo fa parte della nuova generazione di questo di questo tipo di orologio si tratta di un diver i più diciamo così attenti forse avranno già capito di cosa si tratta ma bisogna aspettare che io apre insieme a voi questo pacco quindi sigla e facciamo questo unboxing eccoci qua cari amici mettiamo un po la luce che punti un po meglio questo è il pacco fatto bene direi viene dalla sicilia poter venire anche da qualunque altra parte dell'italia o addirittura d'europa comunque in questo caso viene dalla sicilia lasciamo perdere il tempo che ci ha messo poste italiane per per farlo arrivare lasciamo perdere non ne parliamo nemmeno è proprio il peggiore servizio che esiste allora cerchiamo di non aspettarsi qui giustamente il pacco è fatto bene perché viene da da un bel posticino lontano diciamo della mia lucca molto bene è un po che si fa attorno così una forza e che abbiamo fatto questo non ci serve di su rumore non è un aeroplano che mi sta tirando sulla testa ma il ventilatore che da noi c'è ancora bene pluribore qui abbiamo già visto un po di cose quindi diciamo abbiamo già svelato un po di misteri si tratta di un citizen pro master aqualand qui c'è anche la referenza cp 2000 blu o c'è anche il bombolotto che fa sempre piacere avere qui abbiamo questo poi ci sono le calibro c 52 le istruzioni questa l'appoggia qui e vediamo qui dentro questo bel bombolotto che è sempre uguale ma è sempre gradito quello in quelli in edizione limitata sono neri però è carino allora che ci abbiamo altre cose no qui non c'è niente e qui c'è l'orologio allora questo è l'orologio referenza jp 2067 l allora questo orologio io ne ero consapevole non è che mi hanno gabbato allora come vedete è quello con il dial blu che a me piaceva tanto questo orologio nasce soltanto braccialato dice guarda come macro e non c'è a bracciale e non lo so voi mi ha detto che l'ha comprato così probabilmente qualcuno ha avuto un'offerta rinunciabile che ne so per il bracciale perché per il resto l'orologio è tutto a posto però questo non nasce col cento di in gomma questa è la sua bella referenza e questo è l'orologio straconosciuto già anche in orario e in dato non orario no però la data c'è comunque è un orologio straconosciuto un bellissimo un bellissimo diver della citizen e in questa colorazione qui blu secondo me è proprio 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 bello è un orologio abbastanza importante dotato di profondimetro e memoria mi sembra di cinque immersioni tanto io non ci faccio sicuramente le emozioni però è un bel è un bel pezzo ora attenzione perché ho già guardato sul sito della citizen e da qualche altro che anche su ebay per cercare appunto il bracciale parte che costa più di 100 euro e comunque bisogna stare attenti che questo c'è la cassa brunita e tanti bracciali che sono in vendita specialmente su ebay sono lucidi e quindi poi viene fuori che è un cazzotto non occhio quindi non va bene da cercare il suo quindi probabilmente andrò se ora proverò intanto che l'estate è finita mi piacciono parecchio i diver con i gommi a me io preferisco però forse in questo caso un bel bracciale suo mi sa che ci sta bene e poi è più è più pertinente originale tutto l'orologio non sono un feticista del 6 viti quindi per me va bene va benissimo anche questa seconda generazione o terza che sia con il fondello chiuso con le tacche il calibro appunto è il c il c 52 è un po nato ma che dice qui qui c'è le istruzioni lo scontrino di acquisto pagato 38 383 euro quindi insomma l'hanno pagato anche meno del con un bel sconto del quad del vero quale sconto 44 80 quindi un bello sconto del abbondante poi c'era con cupone non ha pagato era stato già appeso a buon prezzo che costa 4 questo è il listino 448 euro e visto che anche su amazon più o meno sa testa su quelle cifili acquistato nel maggio del 2022 questa è la card quindi un relozio full set a parte il bracciale che purtroppo non è presente però alla fine vorratti ci metterò anche un nato per il momento in alto dell'estate ormai è finita per mare non ci andiamo più almeno io e quindi facciamo una provina forza un attimino lo mettiamo al polso vediamo come sta e direi che già vedo che sta proprio bene eccolo qua guardate questo bracciale non so se è originale non credo no no sicuramente non lo è però è molto pertinente mettiamolo qui sotto la luce un attimo ecco così lo vedete meglio bello eh bello orologino direi proprio bello carino guardate che riflessi che c'ha è proprio un bello orologino vediamo un po se funziona tutto qui dall'orario aspettate un attimo allora dicevamo qui cambia e dà l'orario i secondi e la data qui dovrebbe attivare il profondi off questo è il cronometro qui perché comunque poi devo studiarmelo per bene ma vedi qui parte poi profondi ma dovrebbe essere comunque io sono più abiezia meccanici però nonostante che sia un quarzo ma questo modificava l'orario c'entra nulla lasciamo stare profondi metro e dico dovrebbe essere questo ecco così è partito il profondi metro e ti dare 3 o 4 5 possibilità io non sono mi piacciono i quarti ma forse questo chi ora attualmente è l'unico che ciò che c'è in collezione però questo è veramente bello questo nel ruolo che volevo avrei preso anche la versione classica quella nera con l'arancetta arancio però quella verde quella verde non mi piaceva quella col di al verde non mi piaceva come non mi piaceva neanche quella full lume con quelle due varianti non mi piaceva questa a parte il classico era quella che sinceramente preferivo perché è un bel proprio un bel quadrante blu vetro minerale 200 metri diver certificato insomma un bello orologio orologio tutto fare che chi se lo vede al polso è un orologio riconoscibilissimo da tutti anche da chi se ne intende un po meno di orologi perché insomma questo qui è una vita che è solo sul piazza sul mercato quindi quindi è proprio un bello orologio quindi facciamo anche una bella prova luminescenza perché su un diver è molto importante vediamo un po facciamo caricare un po il lume e secondo me non deluderà un attimo facciamo così spingiamo un attimo questa luce insomma direi che direi proprio che non deluda è un bel faro un bel faro nella notte ma d'altronde è un molto molto bene abbiamo fatto questo unboxing insieme spero che vi sia piaciuto sicuramente scrivetemi nei commenti se vi piace questo colore blu se ce l'avete anche voi se l'avete comprato eccetera eccetera e niente eccoci qua cari amici alla fine di questo video abbiamo visto questo bel citizen referenza gp 2067 l quindi conversione con di al blu questo nasce braccialato questo purtroppo non ce l'ha più però chiaramente il prezzo d'acquisto ha tenuto conto vi ricordo anche che lo dovrei dire in tutti i video che faccio di qui in avanti ma purtroppo a volte me lo scordo mi raccomando il 5 novembre l'evento a napoli watches and wine organizzato dall'amico mariano del canale mdm vintage orologi e da il gruppo ad hoc 2022 un bel evento che si sarà a napoli a palazzo cappuccini dove il sottoscritto sarà presente quindi se venite ci vediamo ci vediamo parliamo chiacchieriamo prendiamo caffè scambiamo due parole quindi vi ricordo 5 novembre domenica 5 novembre napoli palazzo cappuccini watches and wine bene siamo arrivati alla fine di questo video se vi è piaciuto mi raccomando un bel like per me e per questo bel citizen iscrivetevi al canale se lo ritenete interessante io vi ringrazio sempre di guardare i miei video e ci vediamo presto con altrettanti nuovi contenuti ciao a tutti